Buonasera, grazie a tutti, è un enorme piacere per me essere oggi con voi qui a Taranto e voglio ringraziare gli organizzatori di questo TED e in particolare Francesco Giuri che potete vedere con me in questa foto molto recente che abbiamo scattato quando studiavamo il liceo scientifico all'istituto Salesiano Don Bosco qui in Viale Virgilio a Taranto. Dopo la maturità scientifica mi sono iscritto ad economia all'università di Bari con la quale tuttora collaboro per un master in digital marketing e nel 1997 mi sono laureato discutendo una tesi di laurea su internet. Non sapevo esattamente quello che stavo facendo ma sono riuscito a convincere il relatore e la commissione della bontà del mio lavoro. Quello che vedete è il capitolo 4 della mia tesi di laurea che si intitola Teleshopping, naturalmente parlavo di quello che oggi tutti comunemente conosciamo come e-commerce. E da allora, al netto di una piccola parentesi come ufficiale della Marina Militare italiana che da Tarantino non mi potevo lasciare sfuggire, mi sono sempre occupato di internet. Nel 1999 con un'azienda di Bari andammo al Bari 100 per convincere Pistolato a vendere uno stock di accessori e profumi moda firmati su internet. Lo facciamo con una tecnologia ASP ma non vendemmo nulla, fu un fallimento, non investimmo in maniera sufficiente nel marketing, ma fortunatamente in quel periodo in Italia tutti i grossi gruppi investivano in start-up del mondo internet. Dunque io vado a Milano nel 2000 per sostenere un colloquio con il gruppo Fininvest per la start-up Jumpy e mi ricordo che poco prima del colloquio vado ad un bar in via Vincenzo Monti e ordino un espressino. L'espressino a Bari è quello che vedete qui, in realtà questo a Milano si chiama Marocchino, ragione per cui il barista mi servì un caffè corto. Questa cosa mi fece nervosire non poco, ma ciò nonostante supero il colloquio e dunque mi trovo a Milano a lavorare per la start-up Jumpy all'interno del gruppo Fininvest. Anche quella, a dir la verità, non fu un grosso successo, anzi direi piuttosto un fallimento considerando che Fininvest non riuscì a quotare in borsa Jumpy. Ma io ebbi comunque l'opportunità di lavorare per il gruppo Mediaset, nel quale per oltre dieci anni, sempre nell'area digitale, mi sono occupato di servizi internet e in particolare all'inizio gestivo servizi a valore aggiunto di interazione televisiva via SMS per programmi ad antissimo valore culturale come Amici di Maria De Filippi, Grande Fratello e Chi Vuole Essere Milionario, con il quale gestivamo programmi di interazione televisiva via SMS facendo accordi con gli operatori telefonici. Ma poi nel 2007 Steve Jobs inventa l'iPhone e come ben sapete tutto il mercato e il mondo degli SMS a pagamento crolla. Io però riesco a convincere Mediaset a farmi sviluppare l'app Tgcom24 per iOS e poi quella di Sport Mediaset, il che mi vale una promozione al responsabile marketing. E poi nell'ultimo periodo mi occupo di innovation per l'area digitale del gruppo Mediaset avendo l'opportunità di viaggiare spesso in Silicon Valley e a San Francisco. E come potete ben capire per una persona che si è laureata con la passione per internet, trovarsi a San Francisco in quella che è considerata la mecca mondiale dell'innovazione ovviamente è un passaggio molto importante perché ti trovi proprio dove tutto sta succedendo da quel punto di vista. Ma questo è nulla a confronto di quello che invece mi succede dal 2016 quando a seguito di occhio colloqui, per lo più via Skype o per telefono con cinesi o europei in giro per il mondo, mi trovo a lavorare come responsabile marketing e sviluppo di business per l'ufficio italiano di Alibaba. Alibaba non tutti lo sanno è un'azienda che nasce in Cina in una piccola cittadina di nome Hangzhou di 9 milioni di abitanti nella provincia di Xinjiang in Cina. Ed Alibaba non nasce in un garage in Silicon Valley ma nell'appartamento di questo signore Jack Ma che assieme a 18 suoi amici fonda quello che oggi è uno dei gruppi e-commerce se non il gruppo e-commerce più grosso al mondo con oltre 100.000 dipendenti. Quello che stiamo facendo con l'ufficio italiano è quello di rappresentare come un'ambasciata tutte le attività del gruppo e soprattutto quella di supportare le aziende italiane a esportare in Cina e nel mondo utilizzando le nostre piattaforme. Questo è stato fatto nell'ambito di un processo di internazionalizzazione che inizia nel 2015 e che porta Alibaba ad aprire uffici in tutto il mondo, Australia, Giappone, Corea, India, varie città negli Stati Uniti e in Europa fra cui appunto quella di Milano dove abbiamo aperto gli uffici. È molto difficile lavorare per un'azienda cinese. I cinesi sono persone tuttora nonostante internet e la globalizzazione diverse da noi, diverse per il modo di parlare, per il modo di pensare, per la loro cultura e non è facile interfacciarsi con loro. Prendo in prestito questa slide da un libro di infografiche pubblicato da Zhang Giun, la quale è una cinese che va a lavorare, va a vivere in Germania e dopodiché scrive e pubblica questo libro di infografiche, prendo questa ad esempio, per far vedere come un occidentale in blu fa per passare dal punto A e B e come invece fanno in Cina. E questo solo per farvi vedere una delle tante differenze che si incontrano lavorando con loro e sicuramente potete immaginare la mia gioia in uno dei primi giorni di lavoro quando continuavo a ricevere email indirizzate a me scritte in cinese più o meno come questa che vedete e vi assicuro che non è facile. Però tutto questo mi ha permesso di capire un poco meglio che cosa sta succedendo in Cina in termini di innovazione ed in generale. Tenete presente che la Cina è un paese lontano 10.000 chilometri dal nostro e grande 30 volte l'Italia. È un paese che sta vivendo veramente un boom molto particolare. Giusto per darvi qualche dato, sono oltre 200 le città con più di un milione di abitanti e in questo momento la Cina sta vivendo uno dei fenomeni di urbanizzazione più grandi, il più grande della storia dell'umanità. E sono tante anche le innovazioni che in questo momento si stanno vedendo in Cina che è cambiata molto negli ultimi anni e soprattutto molto velocemente. E questa innovazione, questo boom riguarda un miliardo e 400 milioni di persone, il 60% delle quali sono connesse a internet. Tenete presente che il 60% di 1,4 miliardi sono 829 milioni. Giusto per darvi un paragone, la popolazione intera degli Stati Uniti è fatta da 350 milioni di persone. Se guardiamo all'Europa sono oltre 700 milioni, ma non 829, che sono solo i cinesi che in questo momento sono collegati ad internet. E sono collegati ad internet per lo più con lo smartphone. Nel senso che il cinese ha saltato a pie pari la connessione ad internet con il computer e utilizza internet sostanzialmente, per la stragrande maggioranza, tramite il cellulare. E l'internet cinese è totalmente diverso da quello che noi siamo abituati a conoscere. Non sto qui a parlare dei motivi e del per come e del perché in Cina esiste un internet diverso, ma è un dato di fatto che non esiste Google come motore di ricerca perché in Cina si usa Baido. Non esiste Whatsapp o Facebook per instant messaging e social network, ma c'è un'unica applicazione WeChat del gruppo Sensent che serve a fare tutto questo e molto di più. Non esiste YouTube, ma abbiamo Yuku, non esiste Twitter, ma i cinesi usano Weibo. E il principale applicazione di e-commerce è Taobao con oltre il 60% di penetrazione del mercato B2C in Cina, che permette a quasi 700 milioni di cinesi di acquistare prodotti dal cellulare di qualsiasi categoria mercologica. Ma non vorrei solo porre l'attenzione sul fatto che l'internet cinese è diverso da quello del resto del mondo, ma soprattutto il fatto che pur essendo l'internet presente in un unico paese ha un peso specifico molto molto importante. Giusto per farvi un esempio, c'è stata di recente pubblicata una ricerca di e-marketer che dice che come il mercato e-commerce cinese sia il primo al mondo, il secondo è quello degli Stati Uniti e vale un terzo dell'e-commerce in Cina. Questo per avere idea di quanto importante e quanto rilevante sia questo mondo in termini di internet e di innovazione. Un'altra delle cose che mi colpiscono sempre ogni volta che vado in Cina è il loro utilizzo ormai massivo del mobile payment, ovvero la possibilità di pagare presso casse, tassi, supermercati, sostanzialmente ovunque anche per micropagamenti con le applicazioni. Le principali sono Alipay del gruppo Alibaba e WeChat Pay del gruppo Tencent, che sono le applicazioni che vengono utilizzate da circa 900 milioni di cinesi per pagare qualsiasi cosa e per fare anche molto di più, fino a chiedere per esempio microprestiti oppure pagare alla romana. Devo dire che io la prima volta che andavo in Cina cambiavo prima di partire i soldi in Italia, mi procuravo li yuan e non vi nego che mi sentivo un po' arretrato quando in coda la cassa io pagavo con il contante quando chiunque prima e dopo di me pagava soprattutto nelle grosse città con il cellulare indipendentemente dal ceto sociale o dall'età della persona che in quel momento stava pagando. Un'altra cosa molto interessante secondo me riguarda il fatto che la Cina è stato il primo paese al mondo ad inventare le banconote nell'800 dopo Cristo e c'è chi dice che probabilmente sarà il primo paese ad abbandonarlo. Come potete vedere da questa notizia pubblicata un mese fa il numero degli unicorni cinesi è nettamente superiore per la prima volta a quello degli Stati Uniti. Non mi sono fumato qualcosa e non vi sto parlando di una creatura mitologica ma semplicemente vi sto parlando delle start up con una valutazione superiore ad un miliardo di dollari. Tenete presente che il numero di start up presenti in un paese ovviamente è un indice dell'innovazione di quel paese e stesso vale se andiamo a guardare a questa slide la cui fonte è Crunchbase dove dice che nel 2018 gli investimenti di venture capital in Cina sono stati superiori di quelli negli Stati Uniti. E lo stesso vale per la la ricerca e l'intelligenza artificiale anche in questo ambito e questo è un articolo di Wired la Cina sembra seriamente intenzionata ad essere più innovativa anche nell'ambito dell'intelligenza artificiale sia nei confronti degli Stati Uniti che degli altri paesi al mondo. Ultimamente inoltre avete sicuramente sentito parlare di TikTok è un'applicazione che sta esplodendo adesso in occidente. Ebbene a me non risulta che ci sia mai stata un'app occidentale che sia riuscita a svilupparsi e a diffondersi in Cina ma sicuramente TikTok può essere il primo esempio di applicazione cinese che invece si sta sviluppando in occidente. Almeno a giudicare da questa slide dove si può vedere come a settembre TikTok che è un'applicazione appunto lanciata da un'azienda cinese, da una start-up cinese sia in testa alle classifiche di download tanto dell'app store quanto di Android. Insomma quello che vi voglio dire è che probabilmente stiamo vivendo un sorpasso, stiamo osservando quello che probabilmente sarà un sorpasso epocale in termini di innovazione da parte della Cina ai danni degli Stati Uniti. Io non ho un messaggio particolare da lasciarvi alla fine del mio TED Talk però e non voglio nemmeno convincervi non so ad andare in Cina a studiare cinese o a dirvi che verremo conquistati dalla Cina. Sicuramente sono tanti anche gli aspetti negativi legati alla Cina o agli Stati Uniti di cui io non ho parlato nel mio TED Talk ma l'unica cosa che vi posso dire è sicuramente di provare a cambiare. Nel momento in cui ci troviamo davanti a difficoltà, che sia una difficoltà piccola come quella di ordinare un marocchino e vedersi servita qualcosa di diversa piuttosto che ricevere una mail di questo tipo, non spaventiamoci di fronte alle differenze ma invece affrontiamoli perché probabilmente è l'unico modo per poter accedere a ulteriori innovazioni e comunque a riuscire a scoprire di più su quello che sono ciò che vogliamo fare o magari a coltivare le nostre passioni. Grazie.